Il 2 dicembre 1956 alla Playa de Colorado, a Cuba, sbarcano 82 guerriglieri. Sono capitanati da Fidel e Raúl Castro e il loro obiettivo è combattere il regime di Fulgenzio Battista, il dittatore dell'isola di Cuba. I guerriglieri, Barbudos come verranno poi chiamati, vengono intercettati dai militari di Battista e molti di loro non resistono nel combattimento, solo 12 si salvano, tra loro ci sono Fidel e Raúl Castro e Che Guevara, peraltro ferito. I 12 si ritireranno sulla Sierra Maestra, da lì organizzeranno la rivoluzione che porterà dopo poco tempo alla caduta del regime di Battista.